Fiamme alla tisana nel condominio Larice di via Vendramin erano da poco passate le 15 quando un incendio è scoppiato all'interno di una palazzina a due piani composto da quattro unità immobiliari, un bar e due attività commerciali. Per cause di natura elettrica le fiamme si sono sprigionate dal vano dei contatori dove sono improvvisamente bruciate delle parti in plastica. Un'ingente quantità di fumo ha velocemente invaso la rampa delle scale propagandosi negli appartamenti. Al primo piano una bimba di 10 anni che dormiva incurante di quanto stava accadendo. Per verificare il suo stato di salute è arrivata la mamma che però a sua volta ha accusato un malore. Fortunatamente sono intervenuti vigili del fuoco di Latisana, Cervignano e Udine che dopo aver spento le fiamme hanno tratto in salvo madre e figlia tramite una scala esterna e tre richiedenti asilo pakistani che occupavano l'appartamento al piano superiore. I tre sono stati accompagnati fuori dalla casa con l'ausilio di un respiratore. Una decina gli uomini impiegati che sono riusciti a intervenire rapidamente mettendo in sicurezza gli abitanti dello stabile che al momento è inagibile. Manca infatti la corrente elettrica e la palazzina dovrà essere bonificata dai fumi che l'hanno invasa. Fiamme infine nel pomeriggio anche a Udine in un'autorimessa utilizzata come ripostiglio in via Codroipo a causa di un mozzicone di sigaretta abbandonato, pochi danni e nessun ferito. Fiamme infine nel pomeriggio anche a Udine in un'autorimessa utilizzata come ripostiglio in via Codroipo. Grazie a tutti.